L'esercito si sposta dalla zona rossa del Vallo di Diano che da ieri non è più sottoposta alle limitazioni restrittive all'agronocerino sarnese. A deciderlo in una riunione di coordinamento delle forze di polizia tenutasi nel pomeriggio di ieri in videoconferenza il prefetto di Salerno che nel corso dell'incontro ha disposto la rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio in atto nella provincia di Salerno al fine di contenere la diffusione del covid-19. In particolare poiché le misure restrittive adottate dal presidente della giunta regionale della campagna per i comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta non è stato più confermato è stato deciso di destinare il contingente dell'esercito italiano già impiegato in queste settimane per la vigilanza della zona rossa ad altre aree della provincia. Pertanto nel confronto di ieri al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia e il comandante del raggruppamento campagna dell'esercito italiano è stata condivisa l'esigenza di potenziare i servizi di vigilanza nell'agronocerino sarnese sia per la vicinanza con l'area napoletana dove il contagio è più ampio sia per la presenza di stabilimenti industriali con conseguenti volumi di traffico maggiori dovuti allo spostamento ogni giorno di tutti i lavoratori. Dunque a partire da oggi sono iniziati servizi di vigilanza fissa da parte dei militari dell'esercito agli svincoli autostradali della 3 Napoli-Salerno, della 30 Caserta-Salerno e nei principali snodi della viabilità ordinaria nei comuni dell'agro. Oltre alla situazione degli ospedali si guarda con preoccupazione anche al nuovo focolaio di Scafati arrivato oggi a 41 casi con il coinvolgimento anche della comunità magrebina. I casi di moltiplicazione di contagi nelle famiglie come ha fatto notare anche il governatore della regione campagna Vincenzo De Luca si unisce al contagio arrivato nella comunità magrebina Scafati dove il sindaco aiutato anche da un intermediatore culturale sta diffondendo anche in arabo messaggi sulla necessità del distanziamento sociale e l'osservanza delle regole.